Il fiore all'occhiello del Motoclub Bergamonti è pronto a sbocciare. La dodicesima edizione dell'enduro del Casalasco torna a Gussola con il numero record di 360 iscritti. Un weekend tutto da vivere per gli amanti delle due ruote, con le prove sabato e il via alla gara dalle 10 di domenica. Ne abbiamo parlato al TG Sport con Giuseppe Pietralunga, presidente del Motoclub. Il campionato regionale FMI della Lombardia, che è anche il top perché è la regione dove ha più iscritti. È una gara di regolarità che viene svolta su un percorso di trasferimento con delle moti in regola con il Coggi della strada e la gara vera e propria viene fatta su due fettucciati dove vengono crometrati i tempi migliori e naturalmente vincono. Permessi non sempre facili da ottenere, ma ne vale sempre la pena, anche perché tanti motoclub hanno rinunciato, non il Bergamonti. Partendo dai privati fino ad arrivare alla provincia è tutta una richiesta perché ogni passaggio impone una richiesta, uno scarico di responsabilità. Quando organizzo una gara così, naturalmente con l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni, visto che è il dodicesimo, la federazione ci dà la possibilità di avere certi numeri, perché questi numeri li hai anche perché hai praticamente tutte le categorie che comprendono la specialità enduro, parco cadetti, junio, segno. 120 coppe da consegnare, uomini della sicurezza e sanitari, cronometristi, medici, commissari di gara, in aggiunta un esercito di 100 volontari e un appello per i più giovani dal vicepresidente Giulio Andreani. A giorno d'oggi i giovani non si adattano ai lavori e facciamo noi. Fanno fatica. Eh, è giovane, ci vuole giovane. La gara accade nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Angelo Bergamonti, oltre che a lui la manifestazione sarà anche un memorial intitolato agli amici del Motoclub, Marco Pezzani, Vanni Crema e Mauro Frigeri.